Star Wars, Adam Driver parla del futuro di Killoran in un video. Prima di Star Wars, il risveglio della forza, c'erano parecchi misteri attorno al personaggio di Killoran. Come, per esempio, il fatto che sia in realtà Ben Solo e che uccida suo padre, Han. Ora che il mondo sa che ha assassinato il personaggio preferito di tutti, è interessante scoprire come questo abbia influito sul suo interprete Adam Driver. Come è stata la reazione del pubblico? Come reagiscono i bambini davanti a lui? E come influenza tutto questo Killoran in Star Wars, gli ultimi Jedi? Ma non è tutto buio, deprimente e da lato oscuro con l'attore. Adam Driver, infatti, in una recente intervista con Comings.com ha parlato anche della sua parodia preferita di Killoran, se sia Pro-Porg o Anti-Porg e altre cose divertenti. Potete vedere il video dell'intervista qui sotto. Star Wars, gli ultimi Jedi è scritto e diretto da Rian Johnson, Brick, Loper, e continua le trame introdotte in Star Wars, il risveglio della forza, accogliendo i membri del cast Mark Hamill, la compianta Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong'o, Oscar Isaac, Domnal Gleason, Anthony Daniels, Vendoline Shristie e Andy Serkis. I nuovi membri del cast includeranno Benicio Del Toro, vincitore dell'Oscar, la candidata all'Oscar Laurader nella nuova arrivata Kelly Marie Tran. Il sequel è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman e prodotto dai lunga e lunga Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnovsky. Star Wars, gli ultimi Jedi arriverà nei cinema il 13 dicembre.